Eccoci di nuovo in diretta dagli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo, una mattinata ricca di emozioni, di incontri, di tante belle storie e come vi anticipavo in apertura, oggi martedì 20 dicembre, giornata internazionale della solidarietà, non poteva esserci ospite più azzeccata che Claudia Conte. Buongiorno, benvenuta a Padre Pio TV. Buongiorno Toni e grazie a tutti, che bello essere qui. Grazie a te per aver accettato il nostro invito, perché Claudia Conte è un ospite azzeccata per questa giornata in cui si verrà la solidarietà, perché lei oltre ad essere un'attrice, una scrittrice, e anche un'imprenditrice culturale con una grande attenzione verso il prossimo, che concretizza attraverso la realizzazione di tutta una serie di eventi a livello nazionale con i più grandi partner istituzionali e del mondo, del terzo settore, in favore di chi ha più bisogno. Prima di arrivare a parlare anche di quelli che sono stati i suoi libri, in maniera particolare l'ultimo, infatti vorrei chiederti del tuo ultimo viaggio, perché sei reduce da questo evento che hai tenuto a Firenze in favore dei bambini. Pensavo che mi volessi chiedere come è andata ieri al santuario e le emozioni provate, perché sono ancora, come dire, avvolta da questa grande emozione di Padre Pio. Ti ringrazio per aver fatto questa apertura, perché poi quando siamo in diretta tante volte siamo iper focalizzati sulle nostre scalette, invece tu mi ricordi che essendo venuta ieri avevi avuto la possibilità con il nostro direttore Stefano Campanella e il responsabile della TV Fran Nicola Monopoli di visitare i luoghi di Padre Pio. Io ero con te e percepivo l'emozione che ti accompagnava durante quel viaggio. Cosa ti ha colpito di più di questa passeggiata nei luoghi di San Pio? È un'esperienza che non si dimentica più. Passeggiare dove ha vissuto per 51 anni Padre Pio, dove ha fatto anche i miracoli, dove ha trascorso le sue giornate nella sofferenza, nel dolore, nell'ascolto, nella preghiera, ti lascia qualcosa. Penso che sicuramente andrò via diversa da come sono arrivata. Ringrazio ovviamente i frati, il direttore e ringrazio anche te per avermi dato la possibilità di visitare anche la cella di Padre Pio. E lì è davvero rimasto il mio cuore, accanto al suo. Dicevamo passeggiare nei luoghi di San Pio perché la sensazione che si ha quando si viene a visitare i luoghi di Padre Pio è quello di ripercorrere proprio le sue orme. Ieri con Claudia in un pomeriggio molto tranquillo abbiamo potuto respirare proprio quella che era l'aura di mistero che quasi accompagna i luoghi di Padre Pio. E poi ascoltare anche la voce dei frati che tuttora vivono lì, alcuni lo hanno conosciuto, altri sono più giovani e quindi è stato tramandato al vissuto di Padre Pio. Però vedere anche come vivono loro è bello perché è un mondo che non tutti conoscono, hanno la fortuna di andare a scoprire. Quindi l'invito a chi mi ascolta è di fare questo viaggio perché è davvero emozionante. E di seguire Padre Pio TV perché se ci pensi è uno degli strumenti più innovativi e moderni che abbiamo a disposizione per poter tramandare, come dici tu, l'esperienza di questo santo straordinario che tanto ha fatto per la Chiesa, per il mondo, per il territorio che lo ha accolto e che continua ad accogliere tanti fedeli da tutto il mondo, proprio per continuare a generare questa attenzione verso il prossimo di cui parlavamo prima e di cui tu sei una straordinaria interprete. Come nasce il tuo amore per il prossimo che si traduce nell'organizzazione di questi eventi a favore degli altri? Adesso rispondo, promesso. Nasce da un'urgenza, da una voce interiore che mi dice alcune cose. Raccontavo ieri al frate Custode che tutto ebbe inizio con un sogno. Io sognai madre Teresa di Calcutta che ai piedi del mio letto mi ha detto Claudia devi aiutare i bambini e così io nel sogno ero entusiasta, certo madre Teresa, subito, che cosa devo fare? Ovviamente il sogno si è interrotto senza risposta e quindi io tutta la vita cerco di ascoltare questo richiamo che ho avuto e di fare attività a sostegno non solo dei bambini, anche delle mamme perché spesso mamma e bambino poi fanno parte di un'unica realtà, non si può pensare solo al bambino perché c'è la mamma accanto a loro che li accompagna e quindi mi occupo tantissimo di diritti delle donne e diritti dei minori ovviamente. L'iniziativa di cui parlavi prima di Firenze insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella anche lui molto vicino alla solidarietà, anche il presidente della regione Toscana Eugenio Gianni abbiamo fatto questa iniziativa a Palazzo Vecchio a favore di UNICEF, Global Office of Research and Forsight la ricerca perché la ricerca è un tema molto importante che è anche molto importante qui da voi nell'ospedale Casa Sollievo di Padre Pio, che è il miracolo più evidente che ha fatto Padre Pio ne ha fatti tanti ma questo è davanti agli occhi di tutti e so che anche da voi c'è un ottimo centro di ricerca ed era anche un tema molto caro a Padre Pio i nostri ricercatori sono eccellenti nel mondo quindi bisogna sostenerli, incoraggiarli, incentivarli ed è per questo che la raccolta fondi è stata per la ricerca e sono stati raccolti 200.000 euro a sostegno di UNICEF Centro di Ricerca e c'è stato uno spettacolo di Natale con attori, cantanti molto sensibili come Annalisa Minetti che ho visto che è anche una mia carissima amica e anche lei è devota a Padre Pio quindi magari la porteremo qui un giorno con molto piacere ma anche Paola Turci, l'attore internazionale Daniel McDicker, Chiara Francini insomma tantissimi amici del mondo dello spettacolo io credo che l'idea è quella di creare network, fare sistema network tra diversi stakeholder del paese quindi istituzioni, mondo della finanza l'impresa ovviamente, l'impresa è fondamentale per sostenere il sociale per sostenere la cultura anche, quindi istituzioni, impresa, finanza ma anche mondo della comunicazione del giornalismo, c'erano tanti direttori di testate importanti insomma un network virtuoso con la stessa finalità quindi raccogliere fondi per la ricerca Claudia anche tu come l'ospite che ti ha preceduto Antonio Cera che con la Farnesina gira il mondo per valorizzare i nostri prodotti i buoni prodotti della nostra terra anche tu con le tue attività come stiamo vedendo nel maxischermo alle nostre spalle giri il mondo e incontri tante persone ed è davvero meritorio quello che fai perché attraverso questo tipo di attività si rilancia quelli che sono temi di fondamentale importanza in un'ottica appunto di crescita partecipata di tutta la società e solo attraverso la solidarietà e l'innovazione sociale si possono raggiungere questi obiettivi qual è stata la persona che più di ogni altra ti ha colpito in questo senso nel corso delle tue attività? come rispondere a questa domanda? io penso che ogni incontro che facciamo non è casuale anche il nostro, la giornata di ieri tutto è importante, anche gli errori, anche le persone sbagliate ci insegnano qualcosa, a volte anche proprio l'incontro sbagliato è quello che ti insegna di più quindi non ti posso rispondere a questa domanda sono tante le persone che mi hanno dato qualcosa spero anche quelle a cui io ho dato qualcosa la vita è anche uno scambio di interiorità di forza interiore, di esperienze sono assolutamente d'accordo con te per quanto la risposta diplomatica sia sempre quella giusta però è vero, come dicevi tu tante volte poi anche le esperienze, quelle un po' più tra virgolette brutte comunque ci insegnano qualcosa Claudia, noi ci fermiamo soltanto qualche istante per tirare il fiato poi torniamo su il tuo impegno per gli altri tu sei anche un attivista dei diritti umani come ci accennavi prima ma nel trentennale delle stragi di mafia hai avuto anche l'intuizione di scrivere un libro sull'argomento e di portare in giro un progetto che faccia memoria non per nulla si chiama La Memoria è Futuro perché senza memoria non possiamo costruire un futuro migliore ci fermiamo solo qualche istante poi ritorniamo con te a parlare di questi argomenti volentieri pochissimi istanti alle 9.30 di questo martedì 20 dicembre siamo in diretta dagli studi di Padre Pio TV a San Giovanni Rotondo una mattinata ricchissima di contenuti e di tanti graditissimi ospiti è qui con noi Claudia Conte attrice, scrittrice, attivista per i diritti umani e imprenditrice culturale abbiamo fatto già una prima chiacchierata con lei adesso ci concentreremo su quello che è il suo ultimo libro l'ultimo libro pubblicato diciamo l'ultimo in ordine cronologico un libro che getta uno sguardo su quello che è un fenomeno ancora tristemente noto per tutte le sue implicazioni conoscere di cui dobbiamo essere consapevoli se vogliamo combatterla il libro che Claudia Conti ha pubblicato è La Legge del Cuore e io chiederei a Claudia di spendere due parole su questo bellissimo racconto Sì Toni, grazie questo libro nasce in un anno importante per la cultura della legalità questo è l'anno in cui ricorrono diversi anniversari come il trentennale dalle stragi di Capaci e Via D'Amelio 30 anni dall'istituzione della DIA 40 anni dall'introduzione della legge Rognoni-La Torre quindi l'introduzione del 416 bis 40 anni anche dall'uccisione del generale dalla chiesa quindi in quest'anno così importante ho riflettuto tanto sulla possibilità di potermi dedicare ancora una volta attraverso la cultura a fare awareness su dei temi perché io faccio sempre così parto dall'oggetto culturale che sia la mostra d'arte che sia il film che sia il premio che sia il libro per poi appunto fare soffermarmi su dei temi quindi l'oggetto culturale a servizio dei temi sociali così nasce questo romanzo che è una storia vera che ho buttato giù ho condiviso con delle personalità illustri del mondo della giustizia e della legalità che poi mi hanno realizzato le prefazioni del libro e sto parlando del già procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao Caterina Chinnici onorevole europarlamentare nonché figlia di Rocco Chinnici magistrato ucciso dalla mafia nell'84 e con il capo della polizia anticrimine e antiterrorismo il prefetto Francesco Messina dopo aver condiviso con loro questa storia è nato il desiderio poi di pubblicarla proprio per poter come dire organizzare degli eventi dei dibattiti dei convegni incentrati sulla legalità così nasce il format La Memoria è Futuro che accennavi prima La Memoria è Futuro quindi nasce dalla consapevolezza che attraverso il focus su grandi personalità gli eroi della nostra storia come Falcone, Borsellino, Dalla Chiesa Chinnici ma veramente tanti altri Aldo Moro ne possiamo citare molti soffermandoci sulla loro storia possiamo imparare da loro seguire il loro percorso prendere il testimone che ci hanno lasciato e a nostra volta consegnarlo a chi verrà dopo e così sono nati questi dibattiti abbiamo aperto le celebrazioni del trentennale in ricordo di Falcone e Borsellino con il ministro dell'interno Piantedosi e con tanti altri personaggi illustri del mondo della giustizia ma anche del giornalismo della magistratura il presidente della Corte dei Conti perché purtroppo la mafia non ha smesso di essere incisiva nonostante siano passati trent'anni continua ad essere molto presente si parla di mafia punto due, punto tre perché ha cambiato modalità spesso non fa più stragi così eclatanti anche se spesso accadono anche queste però si infiltra in tutti i settori della vita sociale e ora con il PNRR che è una grandissima opportunità per il nostro paese è un'opportunità purtroppo anche per la criminalità organizzata che si infiltra e poi va a deviare queste risorse importanti che servono a far ripartire le aziende ad aiutare le famiglie e gli imprenditori quindi ancora una volta il rischio che questi fondi vengano deviati per questo è importante parlare ancora oggi di mafia di farlo in tanti contesti di arrivare a tutti anche ai giovani in modo tale che appena si vede anche la mentalità mafiosa non per forza l'uccisione l'estorsione e l'usura ma la mentalità mafiosa l'omertà si cambia regime e anche i giovani stessi iniziano a parlarne iniziano a capire no, non si fa questo in merito a quello che dicevi un istante fa sulla capacità di penetrazione del fenomeno mafioso nella nostra società il tuo romanzo è emblematico perché racconta la storia una doppia storia di due personaggi che si una storia che si incrocia due destini diversi ma in un certo qual modo legati che ovviamente non spoilero non spoilero nulla però ecco che denunciano in un certo senso questa commistione che può avvenire tra l'illegalità e il mondo della legalità e quando leggevo il tuo romanzo ti confesso che essendomi buttato subito nella lettura perché personalmente mi piace leggere le spiegazioni dopo per non essere condizionato nella lettura pensavo fosse una storia di fantasia quando tu ci dici che invece tratta da una storia vera mi lascia profondamente colpito e testimonia quello che dicevi prima tu la mafia cambia pelle ma non è stata ancora sconfitta e questa capacità di penetrazione fin dentro le istituzioni può pregiudicare la crescita sociale anche economica di un paese a discapito sempre delle persone più deboli questo è il motivo per cui mafia e diritti umani sono profondamente legati sì infatti anche il senso del convegno che si è tenuto qui a San Giovanni Rotondo l'altro ieri con il sindaco e con altri esponenti di diversi settori della vita sociale ma tutti impegnati nel contrasto all'anticrimine e quindi mi fa piacere ricordarlo perché si è svolto qualche giorno fa proprio qui a San Giovanni Rotondo e ancora una volta ecco l'urgenza di mettere al centro la legalità anche per un sano sviluppo economico perché un paese in cui c'è la mafia è un paese in cui non ci sono pari opportunità non c'è giustizia sociale e quindi il presupposto necessario anche per la crescita economica come dicevi prima del paese è proprio un paese libero dalle infiltrazioni bene questo non è il primo libro che tu hai scritto e pubblicato ce ne sono altri in cantiere? al momento no sono sincera perché c'è tanto da fare su altri temi ecco parlavamo di donne questi progetti legati alla figura femminile al festival del cinema di Venezia alla festa del cinema di Roma e quindi questo è un impegno ormai siamo arrivati alla settima edizione e quindi stiamo già preparando la prossima edizione è il caso di dire che tu ci metti la faccia ti esponi in prima persona senza con grande coraggio soprattutto su temi appunto molto delicati perché quando parliamo per esempio di diritti delle donne mi viene in mente subito l'Iran è vero che siamo distanti da quel paese che sta vivendo momenti di grande attenzione sociale dove donne e uomini stanno provando a difendere i diritti fondamentali di ogni essere umano però percepisco che per esempio da noi sì c'è l'attenzione della cronaca ma la società civile ha bisogno di essere scossa motivata ogni volta per questo chi come te rinuncia tante volte anche a propri progetti personali per farsi portavoce di messaggi importanti è veramente prezioso come leggi il momento attuale nella nostra società anche rispetto a quello che sta succedendo in Iran io credo che se le persone davvero sapessero vedessero da vicino quello che sta accadendo non potrebbero rimanere indifferenti perché parliamo di condanne a morte di giovani di 22 anni delle storie che ti strappano il cuore mi raccontava io poi mi occupo anche di mediazione culturale quindi mi faccio portavoce di quello che sta accadendo anche in televisione mi raccontavano di questo ragazzo 22enne che è stato arrestato perché manifestava quindi senza veramente motivo che ha scritto una lettera alla sua fidanzata sempre ventenne e la rassicurava diceva io non ho fatto nulla sono innocente quindi sono sicuro che riuscirò a tornare a casa da te dopo qualche ora la condanna a morte il giorno dopo l'impiccagione questo ci fa ci fa capire che sta accadendo veramente l'impossibile l'indicibile non si può rimanere indifferenti quindi raccontare queste storie è importante perché perché le persone se ne possano rendere conto di quello che sta accadendo io dico quello che accade a una sorella in qualsiasi luogo del mondo è come se accadesse a noi quindi non si può proprio far finta di niente e girarsi dall'altra parte sai anche perché mi viene in mente quella celebre immagine della rana nella pentola di acqua che è sul fuoco e che non si rende conto o quantomeno non reagisce subito al fatto che l'acqua sta aumentando di temperatura e magari quando realizza che l'acqua sta bollendo è troppo tardi e ci rimane ci rimane stecchita in quell'acqua bollente reagire subito a qualsiasi forma di soppruso penso che sia davvero importante e per questo è meritevole il tuo impegno e siamo grati che tu sia stata qui con noi oggi a raccontarci i tuoi progetti e quindi a condividere con noi la tua testimonianza grazie mille Claudia mi auguro che ci saranno in futuro altre occasioni per continuare a parlare di questi temi anzi sono certo che sarà così certamente ormai padre Pio mi ha chiamata quindi dovrò tornare e noi siamo felicissimi di tutto questo per cui ti facciamo tanti cari auguri e ti rinnoviamo l'invito a ritrovarci qui l'anno che verrà